se anche tu negli ultimi anni ti sei divertito a scambiare criptovalute magari accumulando qualche guadagno degno di nota oppure no potresti avere un problema con questo video voglio metterti in guardia dai controlli che il fisco ha iniziato a fare su tutto il territorio nazionale devi sapere se già non lo sai che da febbraio di quest'anno è in vigore un decreto che obbliga tutti i soggetti professionali presso cui vengono effettuati scambi di criptovalute a comunicare i dati di coloro che hanno effettuato gli scambi sulle loro piattaforme questo vuol dire che se sei detentore di criptovalute e le hai scambiate su un exchange che opera all'interno della repubblica italiana molto probabilmente il ministero delle finanze quindi l'agenzia delle entrate la guardia di finanza potrebbero aver ricevuto i tuoi dati cosa comporta questo potresti essere chiamato dalla guardia di finanza a rendere conto delle movimentazioni che hai effettuato e soprattutto del fatto di non aver sbadatamente dichiarato le tue plusvalenze all'interno del modello rt della dichiarazione dei redditi oppure peggio di esserti completamente dimenticato di effettuare il monitoraggio fiscale ossia di dichiarare le tue criptovalute qualunque sia il loro valore all'interno del quadro rw tuttavia voglio avvertirti di una forte distorsione semplicemente gli exchange comunicano tutte le transazioni intercorse all'interno di un dato periodo agenzia delle entrate e guardia di finanza ricevono la comunicazione che tu hai effettuato un certo ammontare di vendite ma nulla ricevono o sembrerebbe che nulla ricevano per quanto attiene gli acquisti che è effettuato all'interno dello stesso exchange quale conseguenza di questo fatto la guardia di finanza sta convocando i detentori di criptovalute chiedendo atto della mancata compilazione del quadro rw ma avendo in mano solo i dati delle vendite questo chiaramente genera una distorsione perché potrebbe sembrare che tu abbia realizzato più plusvalenze di quello che in realtà hai fatto o comunque che tu abbia non comunicato ammontare di criptovalute più alti di quelli che in realtà hai avuto hai posseduto nel corso dell'anno è dunque molto importante che tutti attivi quanto prima ad effettuare una contabilità analitica di tutti gli scambi di criptovalute intercorsi nell'arco dei vari anni in quanto nel momento in cui dovessero convocarti e tu non avessi la possibilità di ricostruire questi dati per tempo potrebbero imputarti la mancata compilazione del quadro rw e plusvalenze molto più alti rispetto a quelle reali molti mi domandano è possibile effettuare una contabilità in e out delle criptovalute sì è possibile ma abbastanza complesso purtroppo non tutti gli exchange sono in grado di darti questi dati in maniera automatizzata e il mio consiglio è quello di attrezzarti in proprio e tener tracciato tutti i tuoi acquisti e tutte le tue vendite onde evitare che un domani ti si contestino plusvalenze che in realtà non hai mai realizzato se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale youtube e segui gli aggiornamenti sul nostro sito